La Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del settembre 2016 nei confronti di 22 imputati nel processo scaturito dall'operazione antimafia Gota 5 che tra aprile e novembre 2015 portò all'arresto delle cosiddette nuove leve della mafia barcellonese mettendo nel mirino la gestione degli affari illeciti tra Barcellona, Milazzo, Termevigliatore, Furnari ed i centri dell'Interland. Nell'aula bunker del carcere di Gazzi il collegio d'Appello, Presidente Sicuro, Giudici, Grimaldi ed Arena ha sostanzialmente confermato quanto disposto dal gruppo Eugenio Fiorentino al termine del processo col rito abbreviato. L'unica eccezione riguarda Orazio Salvo assolto per non aver commesso il fatto da una delle contestazioni a suo carico Salvo che in primo grado si era visto infliggere una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione dovrà quindi scontare 5 anni. Concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante per Antonino Biondo la cui pena è stata rideterminata da 8 a 7 anni di reclusione sconto di pena anche per Giuseppe Cammisa che da 8 anni e 4 mesi del primo grado passa a 7 anni, 7 mesi e 20 giorni. Per Filippo Munafo è stata riconosciuta la continuazione con precedente reato già giudicato ed è quindi stata applicata la pena di 7 anni passa invece da 7 anni e 8 mesi a 7 anni la pena inflitta a Giovanni Pino. I magistrati della Corte d'Appello hanno quindi condannato Giovanni Fiore, Alessio Alesci e Franco Munafo insolido al risarcimento del danno in favore della Navisal SRL da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento di una provvisionale di complessivi 250.000 euro nonché alla refusione delle spese di costituzione del giudizio di primo grado e a rifondere le parti civili Francesco, Salvatore e Giovanni Salamone per le spese di costituzione del giudizio. Annullata infine la condanna di Santino Benvenga al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti civili ad eccezione delle comune di Furneri e di Nadia Lucia Munafo. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Rita Pandolfino, Carmen Zarcone, Sebastiano Campanella, Tommaso Audro Riolo, Giuseppe Lopresti, Salvatore Silvestro e Tino Celi.